Giordano è sempre stato un padre premuroso. Da piccolo è cresciuto nell'umiltà con genitori che si sono fatti in quattro per riuscire a mandare avanti la famiglia. In realtà non era il figlio biologico, era stato abbandonato in un bidone da piccolo nella zona più povera della città. I genitori quel giorno erano andati a comprare qualcosa da mangiare dopo un'intera giornata di duro lavoro. Proprio durante la loro camminata di ritorno a casa si sono imbattuti in un neonato che piangeva. Seguendo il suono arrivarono ad un bidone della spazzatura. Qui videro una delle cose più belle mai viste nella loro vita. Si innamorarono subito di Giordano come se fosse stato il destino a condurli lì. Lo portarono immediatamente a casa e cominciarono a porsi delle domande. Tesoro, se qualcuno lo stesse cercando, come facciamo? Dobbiamo andare alla polizia, disse la madre. No, non credo lo stiano cercando, altrimenti non l'avrebbero mai abbandonato in un posto simile. Non perdi per sbaglio tuo figlio nel cestino della spazzatura. Così infine decisero di tenerlo. E lo crebbero dicendoli che era semplicemente loro figlio. Nei giorni a venire non ci fu mai alcuna denuncia di scomparsa, quindi era ovvio che fosse stato abbandonato dai genitori biologici. Ma i due l'hanno cresciuto con sani principi. Non ha potuto fare chissà quali scuole, ma da piccola adorava cantare. La musica lo teneva lontano dai problemi della vita quotidiana, problemi economici e di amicizia. Non ne aveva molti di amici e rimaneva spesso solo a scuola. Finché infine non decise di trasferirsi e andare via di casa. I genitori gli dissero che stare in quella piccola campagna lo avrebbe solo portato alla povertà come loro. E hanno conservato per anni dei soldi su un suo conto personale, con quei soldi avrebbe potuto trovare in città un posto da affittare almeno per tre o quattro mesi. Così partì, cercando fortuna. E in effetti nella grande città capitale c'erano tante cose da vedere e scoprire, e tanti lavori da provare. I primi tempi si diede da fare come cameriere e conobbe anche una bellissima ragazza con cui instaurò un rapporto d'amore. Lucia, sua moglie, e insieme ebbero una figlia di nome Clara. Qualc'anno più tardi, ma sfortunatamente Lucia morì dopo il parto. Il suo fisico non aveva retto e aveva una malattia incurabile. La sua vita quindi era appesa ad un filo e questo lo sapeva Giordano, ma ha continuato a stare con lei fino alla fine. Tu sei il suo lascito e ti proteggerò e amerò per sempre, disse a sua figlia la prima volta. Ma la vita da genitore single non era semplice. Ogni giorno combatteva sfide a dir poco estenuanti. Non aveva nessuno su cui contare. Pagava moltissimo per la sua educazione e il suo mantenimento, ma ovviamente non lo dava mai a vedere. Però aveva smesso con le sue passioni, aveva smesso di seguire i suoi hobby perché ormai non aveva più tempo. Ma di tanto in tanto si metteva da solo la sera e cantava per riuscire a rilassarsi. Così sono passati gli anni e la figlia crescendo ha imparato anche lei cos'è la vita. Ma stavolta Giordano ha fatto il possibile per darle tutto ciò che lui non ha potuto avere ed è riuscita a mandarla all'università. Qui Clara conobbe molte persone e alcune davvero molto ricche, tra cui Richard, il ragazzo con cui si è fidanzato più avanti. Papà, che ne dici di incontrare i suoi genitori? Chiese un giorno Clara a suo padre. Lui accettò, ma le cose non andarono molto bene. Alla cena i genitori di Richard cominciarono fin dai primi minuti a guardarlo male perché era più povero di loro. I suoi vestiti non erano di marca. Lui spendeva soltanto soldi per sua figlia, in modo che non venisse presa in giro dagli altri. Ma per se stesso non comprava vestiti da anni. Così, seduti a tavola, chiesero poi della sua storia e quando disse che era figlio di umili contadini rimasero molto scioccati. Finita la cena, dissero al figlio di mollare quella ragazza. Non puoi stare con lei, non hai visto che famiglia ha? La nostra eredità andrà sprecata. Ma non ci stava Richard. Allora vorrà dire che non mi merito l'eredità. Io la amo e starò con lei. Così i genitori dovettero accettarlo, ma non volevano intorno il padre e lo evitarono fino al giorno del matrimonio. In quel giorno decisero che l'avrebbero umiliato davanti a tutti. Appena entrato in sala, dissero ai loro amici che era solo un inserviente e che doveva pulire la sala dopo il matrimonio. Molti risero guardandolo mentre l'uomo saliva su un palco per augurare felicità agli sposi. Cominciò a parlare al microfono sotto le risate delle persone. Tesoro sono felice ti sia sposata con un uomo che ami veramente e hai anche finito l'università ottenendo ottimi voti. Tuo padre è fiero di te. Per questo vorrei farti un regalo che ho preparato in questi mesi prima del matrimonio. L'uomo cominciò a cantare, una canzone che arrivava dal suo cuore e parlava dell'amore che aveva per sua figlia. Tutti rimasero senza parole, anche i genitori di Richard che dovettero ammettere la sconfitta. Quell'uomo aveva fatto piangere mezza sala con la sua voce. Era un semplice operaio che amava cantare la sera, ma tutto quell'esercizio l'aveva reso veramente bravo. Non era perfetto, nemmeno bravo tecnicamente, ma ciò che colpì fu l'interpretazione. Si sentiva l'amore che aveva per sua figlia in tutte le note. Dopodiché scese dal palco e l'abbracciò. E Richard fece cenno ai genitori come a dire, avete visto? Mai giudicare un libro dalla copertina. Lo abbracciò anche lui e tutto si concluse perfettamente. Molti invitati li parlarono e alcuni si scusarono per aver riso. La storia insegna come a volte dobbiamo semplicemente conoscere meglio le persone e non giudicarle dal loro reddito. Altrimenti nel mondo le separazioni sarebbero sempre più grandi nella società.